Musica Sono stati 5 i punti all'ordine del giorno discussi durante il Consiglio Comunale di mercoledì 29 luglio. La ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 110 del 3 luglio 2009, adattata in via d'urgenza aventi ad oggetto variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, è stata approvata con 12 voti della maggioranza contro 4 dell'opposizione. Il Consiglio Comunale ha deliberato di ratificare la deliberazione numero 110 del 3 luglio 2009, di variare il bilancio pluriennale 2009-2011 e la relazione previsionale e programmatica 2009-2011, con riferimento all'esercizio finanziario 2009, in conseguenza ed in esecuzione del presente provvedimento. Di dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, numero 267. Di dare atto che in seguito alle variazioni apportate, le previsioni di competenza delle entrate correnti, titoli primo, secondo e terzo, e delle spese correnti, titolo primo, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa delle entrate e delle spese in conto capitale, sono iscritte nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2009 e nel bilancio pluriennale 2009-2011, in misura tale da garantire il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno. Approvato all'unanimità, l'atto aggiuntivo al controllo di concessione per la gestione dell'impianto di distribuzione del gas metano. Il Consiglio ha deliberato di ritenere la premessa e gli atti in essa richiamati, di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo alla Convenzione, che prevede la conferma della scadenza naturale dell'attuale gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale al 31 dicembre 2010, di autorizzare il responsabile del settore urbanistica e ambiente, sulla base delle motivazioni esposte, alla sottoscrizione del suddetto atto convenzionale, di dare atto che il responsabile del procedimento è lo stesso responsabile del settore urbanistica e ambiente, architetto Vincenzo Turturro. Approvata con 12 voti della maggioranza, la concessione del pubblico servizio di gestione di impianto complesso, costituito da centro di selezione, da linea di biostabilizzazione con annessa di scarica di servizio soccorso, inclusa l'acquisizione dell'area, la progettazione e la realizzazione dello stesso impianto. Il Consiglio ha preso atto del programma costruttivo, all'esito della giudicazione disposta con determinazione dirigenziale del settore urbanistica e ambiente comunale, numero 192 dell'8 aprile 2008. Approvato all'unanimità l'ordine del giorno per la dichiarazione di territorio comunale denuclearizzato. Il Consiglio ha deliberato di dichiarare il territorio comunale denuclearizzato, contrario quindi alla produzione di energia nucleare, di vietare su tutto il territorio comunale l'installazione di centrali che sfruttino l'energia atomica, di garantire la massima trasparenza e partecipazione nel processo di individuazione di siti di stoccaggio per i rifiuti radioattivi, derivanti anche dal decommissioning delle centrali dismesse dopo il referendum del 1987. Approvato all'unanimità anche il punto concernente la crisi del settore agricolo e richiesta dello Stato di calamità naturale delle zone agricole comunali, colpite da grandi eventi atmosferici accaduti il 21 giugno 2009. Il Consiglio comunale impegna il Ministro per le politiche agricole e forestali, il Presidente dell'Aggiunta regionale pugliese, il Presidente della provincia di Bari, ad adoperarsi affinché sia dichiarato lo Stato di calamità naturale. Siano individuati fondi straordinari per soccorrere le aziende agricole in forte difficoltà finanziarie colpite dall'evento calamitoso. Si è rivisitato il Decreto Legislativo 102 del 1994 prevedendo un sistema che consenta agli agricoltori di poter beneficiare di contributi economici, a buoni e sgravi, senza dover necessariamente stipulare polizie assicurative. Sono stanziate risorse finanziarie da erogare direttamente alle imprese agricole colpite dalle calamità, che a causa del mancato rifinanziamento del Fondo di Solidarietà Nazionale non hanno potuto stipulare polizie assicurative. Si è concesso abbattimento dei contributi previdenziali e assistenziali personali e per i propri dipendenti dovuti dalle aziende agricole. Sono ammessi sgravi fiscali per i pagamenti dell'IVA e dell'IRAP. Si è adeguatamente rifinanziato il Fondo di Solidarietà Nazionale. Per quanto riguarda il tema sicurezza, si è preso atto che non ha senso la polemica sollevata, in quanto l'amministrazione si è attivata per tempo. Inoltre i carabinieri hanno affermato che non si può ritenere giovinazzo una città a rischio, poiché sostiene Galizia non ci sono le condizioni per considerarla come tale. Grazie a tutti.